ebbè direi che non è proprio un cazzo ma capite? domani si può entrare? mai dire mai eccoci qua sono state due settimane terribili perché non sono uscito per due settimane in acqua il mare è stato sempre agitato in maniera improvenibile come avete potuto vedere da qualche video non ho pubblicato venerdì ieri perché non mi piaceva quello che stavo facendo quindi adesso è arrivato il momento di rispettarsi quindi siccome bisogna sempre essere i primi a entrare in acqua dopo tale mare perché le sorprese sono sempre all'agguato scendiamo faccio queste due ore prima del calasole e vado a vedere se effettivamente qualcosa sta girando visto che per tutti questi giorni il mare non ha consentito a nessuno di entrare in acqua e probabilmente ha anche invogliato i pesci a parte costa o almeno così immagino e spero quindi carico tutto indispensabile e mi vado a fare questa pescata da terra ovviamente col fucile che non vi posso far vedere oh eccomi qui pronto sulla mia macchina da pesca in queste occasioni utilizzo la macchina per questi piccoli spostamenti io abito proprio qui sul mare quindi mi vesto scendo su in pochissimo tempo scenderò in una zona che ancora mi consente di entrare perché nonostante il vento abbia mollato il tempo sia bello comunque ancora il mare è una forte risalta quindi non ho intenzione di rischiare uscendo da gli scogli e quindi uscirò da una zona sabbiosa c'è sempre questa forte tensione d'entusiasmo prima di entrare in acqua quando ci sono queste condizioni ovvero tempo brutto per tanti giorni che non ha consentito a nessuno di pescare pescatori professionisti o pescatori con le canne è anche generato nei pesci una certa frenesia alimentare perché con lo sbattimento delle onde sulla costa ovviamente si crea tutta quella catena alimentare che poi spinge i pesci per essere i primi ad approfittare di questa situazione stamattina sono andato a vedere a controllare il mare non ho visto nessuno in acqua facciamo le dita so comunque che nessuno è sceso in questi giorni e vado a provare adesso di che si tratta probabilmente magari strutto anche domani visto che sono due settimane come ho detto che sono rimasto a secco non ho contenuti ma soprattutto ho voglia di entrare in acqua non ce la faccio più sono con il mio Fury Fury 85 al quale rispetto all'altra volta ho cambiato un attimo l'allestimento ho messo un'asta da 7 con doppia letta non so cosa aspettarmi in realtà ma mi immagino una stabilità del tiro e una potenza tra a guardevoli quindi lo provo e vedo come va però il fucile ha veramente tanta potenza e quindi un'asta da 7 secondo me va anche bene vado alle ciance le dimenti sono già arrivato adesso mi fermo mi vesto e c'è l'acqua ciao ed eccomi finalmente in acqua a dirla tutta mi aspettavo questo tipo di visibilità giorni e giorni in cui il mare ha imperversato creando tutta questa sospensione però questo potrebbe avere un significato con degli aspetti carico con un unico movimento come al solito una delle grandi caratteristiche di questi fucili il mio Fury 85 e sono subito in pesca o perlomeno almeno ci provo i più esperti potranno notare dal fluttuare delle varie alghe del materiale che effettivamente la risacca è abbastanza forte in questa prima fascia la visibilità è davvero scarsa però ci provo sono condizioni ideali per eventuali repredatori nonostante i miei richiami gutturali nulla si avvicina anche se le condizioni sono davvero perfette non saprei proprio spiegarmi la mancanza di spigole in condizioni del genere mi sposto un po' più verso il largo e la visibilità sembra migliorare comunque la risacca è forte vedete quanta sospensione si muove e sono costretto a mantenermi ben saldo sugli scogli per evitare di muovermi in queste immagini potete vedere come le condizioni perfette di cui parlo si concretizzano con la presenza di mancanza in superficie che potrebbe darmi l'indicazione di un eventuale predatore in avvicinamento e anche qualche pesciotto nei dintorni ma di spigole neanche l'ombra ma secondo me si sono estinte a Taranto sono ormai arrivato sulla linea di costa e anche qui le onde sono molto poderose nonostante sia sballottato da una parte all'altra riesco a gestire perfettamente questo fucile che direi dalle dimensioni davvero compatte e ideali detto questo cerco sempre di vedere se qualche pesciotto arriva nelle vicinanze vengo attratto un attimo dietro questo scoglio da un lampo di luce penso che ci sia qualche pesce che si sta allontanando probabilmente si è spaventato a causa dei movimenti che faccio ma decido di tirare l'aspetto e cercare di vedere se qualcosa si avvicina taglio un po' le immagini come al solito purtroppo per non potervi mostrare il fucile ma guardate questa bella azione di caccia alla mia destra mi rendo conto che si sta materializzando un bel pesce dall'alto sta scendendo verso di me una bellissima orata guardate un po' è a distanza e mi obbligo a tirare a una distanza che io non considero confortevole voglio provare il fucile e decido comunque di sparare ma il pesce viene bloccato davvero un ottimo tiro sono al settimo cielo ho avuto la conferma che avendo cambiato quest'asta da 7 il tiro è diventato davvero preciso e molto stabile oltre che potente guardate il pesce è stato praticamente ucciso sul colpo in quanto l'asta ha passato la spina dorsale che fantastica emozione comunque in una situazione del genere dove ti aspetti i predatori dappertutto cosa ti arriva? una bella orata beh sono proprio soddisfatto aver battuto la titubanza di tirare così lontano a un pesce in queste condizioni mi rende davvero soddisfatto e mi fa capire l'importanza nella prova di queste armi in mare come avrete potuto vedere da queste immagini mi sono reso conto che ci sono anche dei cefali che girano non sono specie singoli ma si muovono in branchi questo potrebbe dire che magari è iniziata la frega anche per questa specie continuo con gli aspetti e mi apposto in questa zona sperando di incontrare un'altra bella preda all'aspetto questo aspetto è perfetto e anche abbastanza lungo l'idea di poter incontrare un predatore però mi farà commettere un grave errore appena mi accorgo che il branco di cefali viene verso di me esito perché voglio aspettare che lo stesso scorra con la speranza che in coda al branco possa esserci presente la fatidica spigola ma tutto questo mi farà perdere l'occasione e il momento giusto il branco si allontanerà e questo sarà quello che succede ho sparato troppo tardi un pesce in allontanamento e con la sagoma molto piccola avrei dovuto sparare all'inizio senza aspettare la spigola maledetta che non arriverà mai però siccome sono capatosta decido comunque di rimanere all'aspetto anche in pochissima acqua nonostante il mare mi sballotti da una parte all'altra in questa occasione dalla mia sinistra alle spalle guardando con la testa mi rendo conto che appare all'improvviso un cefalo che mi ha fatto fesso penso tra me e me è scomparso dietro questa roccia però rimango ancora teso e attento perché lo riesco ancora a vedere decido quindi di sporgermi dallo scoglio e andargli incontro il pesce è lontano ma alla fine riesco a sparare un altro tiro molto lungo e preciso che arriverà a segno davvero sto prendendo molta confidenza con questo fucile e questo è il risultato e questo è il risultato potrei ritenermi già soddisfatto di tutto questo comunque continuo a pescare magari con il calare del sole qualche spigolo davvero si avvicinerà in queste condizioni ma ancora nulla eppure voglio farvi vedere queste immagini che sarebbero proprio da manuale c'è della mangianza in questo caso delle salpe c'è uno sballottamento le condizioni di mare più o meno agitato in scaduta il sole che sta calando sempre di più quindi con luminosità che cala ma niente proprio non se ne trovano ma sarò io a questo punto sarò io la mia è la mia c'è la mia c'è il ormai siamo vicini al tramonto decido di fare qualche agguato in questo basso fondale tra gli scogli anche per provare l'arma in queste condizioni e anche qui il fucile mi stupisce perché è davvero facilmente brandeggiabile e gestibile sia in elevazione che brandeggio affacciandomi da questo scoglio mi trovo davanti a un gruppetto di sar che ti reputo piuttosto piccoli e decido quindi di non sparare ormai siamo arrivati, il tempo di uscire è stata pescata dopo quasi due settimane a secco e ha già dato delle grandissime emozioni e poi domani probabilmente cercherò di sfruttare un'altra giornata con un'uscita da terra per vedere se qualcosa gira comunque non posso assolutamente lamentarmi ritorno sulla sabbia in modo tale da avere un'uscita confortevole quando ci sono queste condizioni lo faccio sempre evito di uscire sugli scogli e ritrovarmi in condizioni pericolose per l'uscita anche se il mare è decalato comunque questo posto mi dà sempre delle forti emozioni vivere la natura in maniera così diretta a contatto col mare proprio sotto casa è veramente impareggiabile e godersi un tramonto dopo dei pesci presi in questa maniera è veramente fantastico oh insomma diciamo che dopo tutto non mi posso proprio lamentare bella pescata, bella lorata peccato perché non ho avuto la prontezza dei flessi di sparare a quei bei cefali nel branco perché speravo sempre che arrivasse qualcos'altro quindi in quelle occasioni lì con questo tipo di mare bisogna sparare e basta perché è poco probabile poi che ci sia altro che si possa tirare in un'altra occasione comunque i cefali giravano e Saragozzo che però non voleva la pena tirare e la bella lorata il fucile è una figata con quest'asta il tiro è veramente pieno, preciso e potente se poi potevo dire qualcosa, qualcosina in meno forse è leggermente lunga quei 3 cm in più che le danno un po' di peso in punta si può regolare, secondo me l'asta da 7 è perfetta per questo fucile comunque adesso ne panderò con Enrico e vedremo io cosa fare va bene dai andiamo a casa, sassimiamo le cose e vi faccio vedere il carniere ciao 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 oh mi raccomando ragazzi non andatene perché adesso dopo le spiegazioni di rito e il carniere ci sarà un'altra parte del video proprio perché l'ultima volta che non ho pubblicato mi sono sentito in colpa e mi sono sentito in dovere di allungare questo video con qualcosa di interessante oh insomma, eccomi qua sono a casa, adesso mi sistemo tutte le cose probabilmente esco anche domani, ma da terra la visibilità forse non ne vale la pena e poi rimonta comunque il mare domani pomeriggio comunque, adesso vi faccio vedere il pescato voilà, ecco qua bella orata, il cefalo preso con un bellissimo tiro orata, bella ecco qua, comunque non si può lamentare vediamo domani che cosa succede e vi faccio anche l'altro video comunque voi iscrivetevi al canale, mi raccomando cliccate qua e ci vediamo alla prossima ciao, ciao ciao oh, ebbene e dopo questa pescata da terra che è stata abbastanza fruttuosa siccome una delle prede è veramente importante quindi una bella orata oggi ce la cuciniamo ce la cuciniamo in una modalità che secondo me è una delle migliori con le quali si possa cucinare un pesce di pregio perché alla fine l'importante è che ci sia la qualità del pesce e la semplicità nella cottura sono passati già due o tre giorni rispetto alla cattura quindi il pesce è frollato così come deve essere e quindi stiamo parlando del protagonista che è questa fantastica orata e la cucineremo al sale con qualche trucchetto in modo tale che non si sprechi del sale e che comunque si facciano le cose per bene quindi rimanete con me un attimo e vi spiego tutto il procedimento ciao oh, si inizia come al solito a pulire l'orata la risceriamo e manteniamo comunque le squame perché ci serviranno ovviamente come protezione oh, se avete la possibilità il pesce tiratelo fuori dal frigo qualche mezz'oretta prima in modo tale che le carni già cominciano a rilassarsi ed essere meno fredde perché poi nella cottura così un po' come per la carne bisogna sempre iniziare con la temperatura del pesce non troppo bassa vado ad aprire questa orata vi voglio far vedere probabilmente troveremo all'interno tutto ciò di cui si ciba ed è veramente ogni volta uno spettacolo controllare all'interno è rendersi conto di quello che questi animali mangiano oh, ma non poteva poco capitare in questo istante pezzi di cozze cosa sono? anzi addirittura trovo pietre questo significa che avrà mangiato sicuramente scavanda nella ghiaia, nella sabbia per trovare qualche cozza oppure qualche noce comunque il profumo è fantastico va bene, dai, la puliamo per bene e la prepariamo togliamo sempre le branche oh, allora, abbiamo pulito la nostra orata mi raccomando, in questo tipo di preparazione che è molto semplice non bisogna fare degli errori quindi dobbiamo completamente pulire l'interno dell'orata per evitare qualsiasi tipo di retro gusto all'interno, diciamo, è come se fosse sigillata nel sale e quindi potrebbe essere davvero spiacevole quindi cercate di pulire tutto quanto l'interno dell'orata in modo tale da non lasciare parti che potrebbero rimanere amare tra cui, fondamentale, è togliere le branche perché sono ricche di sangue quindi guardate qua che fantastico pesce ancora i colori sono tutti vivi e a questo punto ricordatevi di asciugarlo per bene lo asciughiamo per bene poi andiamo a preparare il sale sono due piccoli accorgimenti da tenere e poi la cottura è veramente semplice vai, andiamo non vi spaventate non c'è bisogno di avere una grandissima quantità di sale se si utilizzano degli accorgimenti prima di tutto bisogna mettere il letto di sale più o meno dobbiamo rispettare le dimensioni del tetto quindi questa dimensione qua e lo schiacciamo questo sale qui non deve essere trattato invece per quanto riguarda il sale che poi dovremmo utilizzare per andare a porlo sopra l'escamotage è quello di utilizzare del bianco d'uovo perché lo rende quasi una specie di cemento e ci consente di non consumarne tanto e di poter modellare bene il pesce con questa sua copertura e addirittura creare un invito alla rottura che ci consentirà in maniera facile poi di aprire il pesce una volta che è cotto comunque vi faccio vedere tutto dobbiamo eliminare quasi del tutto l'umidità dovuta al lavaggio quindi con un panno carta lo asciughiamo anche all'interno in modo tale che non ci sia acqua in più che potrebbe in qualche maniera compromettere la cottura facendo sciogliere il sale quindi il più possibile lo asciughiamo ok, a questo punto lo andiamo ad aggiare sul letto eccoci qua andiamo a preparare il resto del sale mettiamo il sale che potrà servire e poi con del bianco d'uovo andiamo a creare questa specie di cemento quindi occhio, solo il bianco il tollo lo potete conservare se avete da fare qualcos'altro dolce oppure vi serve comunque lo potete mettere da parte e cominciamo a impiastrisciare sicuramente qualcosa di molto più stabile che il semplice sale grosso che altrimenti scapperebbe da tutte le parti in un momento in cui lo andiamo a posizionare sul pesce e ci costringerebbe a utilizzarle veramente troppo e poi così lo riesciamo a modellare davvero meglio ecco qua la nostra orata il nostro sale è pronto e adesso andiamo un po' alla volta a coprirla come vedete il sale non scappa via è facilmente gestibile lo possiamo modellare e rimane attaccato ok abbiamo creato questo strato di protezione del sale che ci consentirà di cucinare il pesce mantenendo tutta la sua umidità questo sale diventerà durissimo abbiamo utilizzato poco sale grazie a questo escamotage dell'uovo adesso non ci resta che creare comunque un invito da rottura perché altrimenti sarà veramente complicato rompere il sale una volta che dovremo poi aprirlo per mangiare facciamo questo semplicemente tracciando una linea in questa maniera come vedete si creerà un invito alla rottura che poi sarà facilmente impiegabile con un cucchiaio o un coltello riusciremo a spezzare in due il sale e a non rovinare il pesce va bene, sciacquo le mani quindi una preparazione semplice se vogliamo da questo punto di vista qualche trucchetto non ci resta che mettere nel forno per una trentina di minuti a 100-120 gradi e poi vi faremo vedere il risultato mi apri il forno per favore? ecco qua un assistente eccola qua il forno una trentina e ci vediamo dopo ecco qua ci siamo allora un altro trucchetto per cercare di capire se è pronto wow ci siamo appannati vedete il colore del sale come è diventato bruno? vuol dire che praticamente è cotto l'altra questione è che tanto per quanto lo possiate cucinare sicuramente non si seccherà mai perché proprio crea questa schermatura con la quale appunto manterrà sempre l'umidità all'interno quindi qua ho altro aspetto da considerare fate molta attenzione al sale perché la temperatura del sale è veramente elevata quindi lo fate raffreddare per il tempo che ci vuole prima di maneggiarlo e state sempre attenti ovviamente perché è molto caldo vedete l'invito alla rottura? adesso ci aiuterà parecchio per poterlo aprire e poi poterlo servire dobbiamo forzare un attimo vedete come è duro? praticamente cemento quindi questo invito alla rottura ci aiuta parecchio eccoci qui attenzione che questi pezzi come ho detto sono veramente bollenti la nostra orata al sale è perfettamente cucinata adesso lo separiamo, ce lo portiamo a tavola e ce lo mangiamo e che non te lo vuoi bere un po' di vino? un vino anche qua a chilometro zero lizzano, canulli che è un bel rosato questa volta non mi occupite di questi tappi ormai immo tutti così tutto a chilometro zero orata presa sulla litorania vino della litorania olio anche della litorania chilometro zero qualità del prodotto semplice la preparazione e ottimo il risultato va bene, intanto salute guardate che la carne è ancora umida, succosa perfetta fate attenzione il sale potrà sempre rimanere un po' attaccato comparire anche nel piatto fate attenzione un attimino ma ci sta perfetto beh, ovviamente poi la testa e tutto il resto non viene buttato niente guardate che spettacolo voi mi raccomando iscrivetevi al canale vediamo la prossima e buon appetito ciao belli, arresta il video voilà it sound right boy grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti